Sì, è stato un primo allenamento abbastanza particolare, diviso in due parti, dove abbiamo fatto prima un lavoro abbastanza duro sul punto d'incontro, poi siamo passati a un lavoro tattico sul campo e ho trovato i ragazzi abbastanza bene, chiaramente c'erano delle partite sulle spalle, bisognava stare attenti a non esagerare, li ho trovati bene, bisognerà ritrovare ovviamente tutti i nostri meccanismi perché avendo così poco tempo per allenarci dobbiamo trovarli in fretta, li ho visti tutti bene, motivati, credo che abbiamo ancora un gran margine di miglioramento, quindi dobbiamo continuare con questa volontà e questa voglia. La prima cosa che è importante è ritrovare quei meccanismi che avevamo a novembre, questa è la cosa principale, poi chiaramente studiamo gli avversari e dobbiamo cercare di inserire dentro questo nostro sistema qualcosa che possa creare difficoltà all'avversario, ci proveremo, questa settimana è più per riprendere un po' tutto il lavoro, dalla settimana prossima ma entreremo un po' più nei dettagli. Favoriti? Tutti sono favoriti, nel senso che le squadre che giocano queste sei nazioni sono talmente forti e in forma che potrebbe chiunque vincere, per quanto riguarda l'Italia mi auguro che l'Italia sia allo stesso livello delle altre, se noi guardiamo i test di novembre è vero che abbiamo perso due partite su tre, però credo che le nostre prestazioni possano lasciare un po' ben sperare. Non bisogna rimanere su questo tipo di situazioni, bisogna crescere, bisogna avere la volontà di crescere e di credere che noi possiamo fare qualcosa di più.